A poco più di tre mesi dal incontro ad Ancara il ministro della difesa Lorenzo Guerini ha ricevuto a Roma il suo omologo turchi Ulusi Akar, al centro del dialogo il dossier Quali la Libia, il Mediterraneo orientale e il rafforzamento delle relazioni bilaterali in ambito difesa, un dialogo costruttivo e franco, questo il commento del ministro, sicuramente positivo per confermare lo stato delle eccellenti relazioni tra Italia e Turchia, partner importante e prezioso alleato della Nato. Cambiamo argomento, sostenibilità e digitale sono le linee guida, le idee guida del nostro futuro, questa sera l'eventura andrà in onda il verde e il blu, una miniserie dedicata a...